Avete accattato la feta? Non sapete come la dovete fare? E voi dico io! Rapitele, sciacquatele e spartitele a metà. A una, quella del cacacazzo, le ho messe semplicemente un filo ruoio, una frangatella di regta. Nella mia ho messo un paro di pomarole e le ho tagliate a metà. Qua qua, oliva nera senza osso, così non ci scaldiamo i rendi. Sale, pepe, un bel filo ruoio extravergine di olivia. Un poco di regta e solo sulle pomarole un'andecchia di zucchero. Pezzate tutto in frigidice ad aria o in forno a 190 gradi, bastano 10 minuti. E questo è il risultato. Ora, o ve la spalmate su una bella fellata di pane croccante, o ve la mangiate a cucciare come ho fatto io, oppure scaurate una frangata di maccaroni e ammiscate tutto per dentro, venne troppo savorite. E come sembra, non vi scordate. Buon appetito! Avete accattato la feta? Non sapete come la dovete fare? E voi dico io! Rapitele, sciacquatele e spartitele a metà. A una, quella del cacacazzo, le ho messe semplicemente un filo ruoio, una frangatella di regta. Nella mia, ho messo un paro di pomarole e le tagliate a metà. Quacqua, oliva nera senza osso, così non ci scardiamo i rendi. Sale, pepe, un bel filo ruoio extravergine di olivia. Un poco di regta e solo sulle pomarole un'andecchia di zucchero. Pezzate tutto in frigidice ad aria o in forno a 190 gradi, bastano 10 minuti. E questo è il risultato. Ora, o ve la spalmate su una bella fella di pane croccante, o ve la mangiate a cucciare come ho fatto io, oppure scaurate una frangata di maccaroni e ammischiate tutto per dentro, venne troppo savorite. E come è sempre, non vi scordate. Buon appetito!